il progetto artesplorando nasce il 31 gennaio 2012 in un momento in cui ero alla ricerca di nuovi stimoli ho pensato di creare uno spazio aperto a tutti e dedicato a una mia grandissima passione la storia dell'arte da allora di strada ne ho fatta tanta e sono riuscito a dare forma grazie anche al sostegno di tutto il mio pubblico a uno dei progetti divulgativi sull'arte più importanti in italia arte esplorazione e divulgazione sono i tre concetti base l'arte è la mia passione e lo è da sempre fin da piccolo sono stato abituato a viaggiare a visitare città musei alla scoperta dell'arte e della sua storia credo che l'esplorazione libera sia un aspetto importante per conoscere l'arte esplorare argomenti in maniera trasversale oltre i confini della storia dell'arte generalmente insegnata a scuola ovviamente la divulgazione è un terzo aspetto che dà lo scopo e anche lo stile di arte esplorando divulgare in maniera chiara semplice ed efficace è un obiettivo da tenere costantemente al centro tutto questo per dirti che se ami l'arte la sua storia ma anche se ti stai avvicinando per la prima volta a questi argomenti sei nel posto giusto qui ad arte esplorando il progetto che esplora l'arte